ciao frate ciao sorella oh ieri ho fatto una live dopo che mi sorella non è salita in macchina quella e quell'altro oh me la so rivista sembravo che ero imbriaco fracico porca puttana invece io siccome che ero nervoso lasciamo perdere che mi sorella mi ha fatto proprio incazzare 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 di brutto mi so preso tu xanax xanax è un ansiolitico ipnotico me lo so preso e mo che mi so rivista la live sembrava che stavo proprio imbriaco ciancicavo che le parole porca puttana beh lo xanax di solito io se me lo prendo che ho uno stato d'ansia che ne ne prendo uno io ne ho presi due ma avevano proprio l'incogliere infatti ho fatto una non una prevendita ho fatto uno ho sponsorizzato le i bracciali e le collane dei eddi e chiedi canali di coppia l'ho ripetuto cento volte e la macchina mi si è fermata ho ripetuto cento volte tre volte mi si è fermata la macchina e mi sorella è sceso ripeto tre volte un casino ma sono rivista veramente un casino ho detto un porca puttana qui pare che mi sono bevuto due litri di vino due litri di vino invece niente ho fatto una sponsorizzazione ai bracciali e alle collane dei eddi e chiedi fatta male infatti oggi la voglio rifare no per niente perché lì è venuta male l'ho sono stato erro rincoglionito ero allora ragazzi e ragazze acquistate le collane e i bracciali di eddi e chiedi canali di coppia che ti le fa perché sono fatti di pietre che portano positività positività la mente positività al corpo ogni pietra ha una sua proprietà diciamo così ogni pietra ha una sua proprietà ognuna di queste proprietà fanno bene al corpo e alla mente sia e adesso l'ho fatto bene il la sponsorizzazione a al braccia ai bracciali e alle collane di chiedi che sono bellissime se dovete andare a comprare gioielli da dar cinese che insomma sono fatti delle palline sì ma sono pietre che non so pietre sono false pietre sono de plastica invece le sue sono originali sono pietre originali ognuna con una funzione differente dall'altra ognuna che fa bene a una parte del corpo ognuna che fa bene una parte della mente acquistate le passate sul suo canale scrivete quello che volete di che ti voglio comprare e poi lei vi risponderà vi mettete d'accordo è tutto a posto ecco oggi è per me è venuta bene ieri mi sono riveduta adesso mi sono riveduta adesso cosa perché mi ero scordato pure che avevo fatta qua live qua live mi ero scordato pure che avevo fatta ho visto che ho parlato con zero di sorcino con chetti con quello con quell'altro detto mamma mia come stava ma qui stava perché mi ero bevo due litri di vino no vabbè avevo preso duxanax che sono psicofarmaci pesanti vabbè comunque l'ho cancellata perché è una live così se può guardare veramente guarda niente parlando di ecco sempre della macchina c'è un po' di stress a portarla perché mi è stresso mi è stress a portare la macchina io sono dieci anni che non la porto e purtroppo dieci anni sono tanti è come se la prendessi per la prima volta come come se io andassi adesso a scuola guida per la prima volta mentre invece a scuola guida ci sono dieci anni fa vabbè però poi dopo un anno elevata l'ho ripresa adesso è come il primo giorno porto la macchina come se la portassi il primo giorno per primo giorno non insomma no a volta a porto bene a porto abbastanza a porto bene solo con un po d'ansia dentro ecco tutto qui un po d'ansia e quest'ansia mi fa venire un po di pesantezza quando esco dalla macchina capito mi sento un po pesante tutto qui ora che cosa vi devo dire boh non ho più niente da dire sono solitare ecco ieri parlavo così sono solitare così parlavo davvero mi sembrava io quando l'ho rivista prima la live mi sembrava che mi ero bevuto due litri di vino rosso perché parlavo così mortacci sua c'ho qua qua se non mi casca il coso c'ho qua due di queste ti addobbano proprio ti fanno dormire in piedi vabbè comunque non è che mi sto sempre a pia queste cose qua se per caso non dormo la notte se mi viene uno stato d'ansia un malore perché io sono un tipo ansioso sono molto ansioso e allora c'è sempre una scatola ora adesso faccio ancicato perché e mi lei il dito e mi lei il dito mi date il dito perché se no parlano male così come come ieri parlano così da fatone da fatone il tossico il bregacone va beh va ragà voi vedico andare tutti a piavvela del culo mi ci vado pure io piavvela del culo con quei pasticchi la damosela tutti a piavvela del culo ve ringrazio ve ringrazio come come dico sempre con amore con ringraziamento attaccatevi a sto membro ma non va non fa rima però vabbè ciao fuck you